56 anni di professione è un attore un doppiatore un produttore la sua vita è fatta di tanti fili d'erba che si sono intrecciati hanno fatto di lui quel capolavoro di uomo e di artista il primo amico della seconda stagione di finalmente domenica venite con noi signore e signori primo ospite della seconda stagione leo gullotta non si muova perché anche se ben trovato abbiamo sempre ben trovati sa perché l'abbiamo voluta chiamare la prima puntata gullotta e disturbarla la domenica perché volevamo avere in studio qualcuno che ci ha regalato la felicità perché leo gullotta quello ha fatto in tutti gli anni che noi la conosciamo anche nei ruoli più terribili a quella è la mia professione e la mia professione è di interprete cioè interpretare qualcosa lontano da me e questo è quello che gli attori fanno quindi nei 56 anni di professione sono entrato e uscito da da tutti o vari generi dello spettacolo che un attore deve conoscere proprio deve conoscere i linguaggi della commedia del teatro del cinema il rapporto non è non c'è mai non ci dovrebbe mai essere improvvisazione leo però le ha sempre detto una cosa non è la classico artista che da piccolo decide che quello il suo mestiere io la porto molto lontano attraverso un racconto che lei ha regalato tra l'altro una pubblicazione che sta uscendo in queste ore si chiama lo scaldacuore curata da paola scarsi che mi ha prestato la paginetta che riguarda lei lei è un bambino ultimo di sei figli dove bisogna tirare la cinghia in quella famiglia vero e la mattina a colazione c'era un rito particolare sì 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 naturalmente per gli amici che in questo pomeriggio seguono questa questo finalmente domenica viva bandi manche come dicono i francesi bisogna andare verso gli anni 50 ecco spostatevi in quel periodo non era come oggi quegli anni 50 che poi esplode con il boom economico di questo paese ero ero bambino l'ultimo di sei figli ma proprio l'ultimo proprio per fortuna nato dopo la guerra e quindi a parte papà e mamma avevo altri papà e mamma nella mia famiglia sorelle e fratelli benedette sorelle e fratelli è vero ed ero piccolissimo loro andavano a scuola erano grandi e quindi la mattina la colazione per per i cinque figli insomma una famiglia semplice papà operaio e andavano a comprare il siero di ricotta che costava molto di meno ci andava molto pane e quindi i giovanotti le signorine che andavano a scuola insomma erano sostenuti e il piccolino e il bambino bisognava avere latte il latte e mamma diciamo quasi all'alba aspettava dove abitavo io a catania in questo quartiere che si chiama il fortino aspettava il passaggio delle pecore con quelle bottiglie classiche che sicuramente vi ricorderete hanno una forma molto precisa e aspettava arrivava arrivava la pecora si faceva bungere il latte nella bottiglia dal collo largo in modo che potesse entrare non andasse pezzo e me lo portava al letto perché a quel punto il latte era caldissimo e aiutava il riscaldamento e quindi un atto oltre che d'amore da parte di una mamma di una invenzione per il riscaldamento visto che siamo in tempi dove il riscaldamento ha un problema se continua così tra poco dovremo inventarci anche queste cose per risparmiare che sono tempi bisogna usare la testa come dico io soprattutto dati i tempi questi che siamo un po confusi ci arrivano tante cose non buone bisogna usare la testa cercare di capire sempre cercare di capire l'istinto mettetelo da parte dico io ma cercate di capire magari vi farete consigliare di chissà qualcosina in più non per forza deve essere specializzato però capire cercare di capire quando è che l'istinto ha avuto la meglio si invece sul ragionamento nell'attività nella carriera di leo gullotta quando è quella volta che dice ma mi butto e l'è andata veramente no 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 tutto è nato per una serie di circostanze io non avevo assolutamente ripeto sempre in quegli anni 50 non c'era nulla poco pochissimo soprattutto però si sognava tanto però per i ragazzi era un bambino ragazzino poi uno metto curioso e quindi mi informavo di tutto vedevo tutto e in questo in un tragitto in una scuola ho trovato una curiosità cut centro universitario teatrale dove per ammissione c'era un corso di informazione sul teatro ma non sapevo cosa fosse però era un bambino curioso mi sono messo in fila non ero universitario tanto è vero che trovavo poi delle stanghe di persone di studenti ma mi sono messo lì in fila in un certo momento sono entrato sapevo nulla assolutamente mi hanno detto lei cosa ha preparato ho detto no non ho preparato nulla non so cosa vuol dire aver preparato qualcosa mi hanno messo davanti una pagina della delchi del manzoni l'ho letto e me ne sono andato quindi la mia curiosità era praticamente finita da quel momento una serie di circostanze da lì a poco tempo quindi avevo grossomodo 14 anni mi hanno portato professionalmente ma non ripeto non sapevo assolutamente nulla alla all'inaugurazione del primo anno del teatro stabile di catania condotto da un grande meraviglioso direttore che per 30 anni ha condotto questo teatro oggi non c'è più ma il pensiero è molto forte nei riguardi di questo direttore si chiamava mario giusti sono molto grato e lì sono rimasto dieci anni tutto quello che solo ho imparato là dentro per dieci anni però non solo con dei meravigliosi professionisti che poi ha rubato da tutti quelli che sono arrivati io sono cresciuto con turi ferro con salvo randone con ave ninchi e tanti tantissimi altri noti e meno noti dove io non sapevo assolutamente nulla e stilla stilla ho guardato ho cercato di capire a poco a poco e a quel punto ho scoperto che c'era questa passione nascosta gulotta cosa accomunava questi questi nomi questo limpo di attori di maestre di anche di autori di teatro se io le dovessi dire raccontare nuove generazioni non dico la differenza ma cosa avevano tanto erano completamente altri termini altre scelte altre indicazioni studio professionalità una parola che oggi si dovrebbe rivisitare in tutte le professioni e qualità umana perché al teatro stabile di catania allora per quei dieci anni insomma l'umanità quasi te la obbligavano a tirarla fuori a vedere da vicino ad impastarti con loro io ero ragazzino tanto è vero che il grande due di ferro mi chiamava gullottino talmente piccino in questa enormità ma io ho imparato anche come posso dire dal siparista perché tirare un sipario è un'arte non è tanto tirare una tenda e basta c'era un signore si chiamava franchino franco di giorno si occupava era era un netturbino ma lui aveva la passione del teatro e soprattutto del sipario era lui che questi sipari in determinato modo che danzano a teatro assolutamente lo sapeva fare meravigliosamente anche nel richiamare applausi perché anche le chiusure dei sipari hanno questa questa scia di intenzione gullotta quando lei ha detto all'inizio il nostro mestiere gullotta sembra sembra un ufficio gullotta la porta leo leo senta lei quando ha detto all'inizio io dovevo devo interpretare dei ruoli cerco poi di farlo nel migliore dei modi questo lo sappiamo tutti però lei è uno dei pochi a cui non sono mai state affibbiate delle etichette le spiego per vent'anni il bagaglino prima sulla rai poi su mediaset la capacità di interpretare questi volti queste anime della politica che una maniera impressionante era un fumetto televisivo lo dice lei bravo una definizione per forse per la prima volta quando arrivò che poi ci furono fatte 22 edizioni con una platea inimmaginabile di pubblico era proprio questo però di lei non si ricorda solo questo si ricorda anche fino all'ultima interpretazione si ricordano tutti quei camei che ha fatto anche credo che sia stato un fatto di scelte ovvero sia io in generale intanto i generi bisogna conoscere appunto come dicevo prima i linguaggi e conoscere i linguaggi è una cosa molto importante nel lavoro che poi si dà al pubblico in teatro in cinema televisione linguaggi completamente diversi e tecniche completamente diverse e quindi questo questo è molto importante però è nella scelta dei progetti che personalmente ho fatto preferisco magari fare o aver fatto una partecipazione straordinaria in un film con un progetto preciso che magari l'offerta di una storia un rimpianto ce l'ha quella cosa che avrebbe dovuto fare col senno di poi no 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 guardi io per dove sono nato per quello che ho avuto con dei genitori fantastici un papà un quartiere stesso dove sono nato perché poi nei quartieri popolare la vita ti si presenta davanti prima del previsto per dei ragazzini bisogna bisogna guardare in avanti bisogna essere ripeto curiosi sapere anche adesso che di anni ne ho 76 e i miei 56 di lavoro ecco questo è molto importante la diversificazione a volte però sei preso magari dal grande successo di un personaggio che hai fatto e la paura di perdere anche quell'affetto del pubblico su quel personaggio ti fa insistere sempre sulla stessa cosa ecco questo a mio modestissimo avviso è sbagliato perché se no appunto come diceva lei la timbratura avviene poi questo paese il nostro è un paese molto strano eh ti devono tutti a differenza degli altri paesi ti devono timbrare attore drammatico attore comico attore cinematografico anche ai registi puoi saper vedere oltre attenzione quindi offrire poi anche sono cattivissime abitudini che 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 non ti fanno arrivare al pubblico a casa ogni volta sono storie diversi personaggi diverse e devi cercare il più possibile di essere vicino a quel personaggio che interpreta in quella storia cercando di comunicare minimamente perlomeno con chi ti sta guardando ehm leo eh lei è andiossato anche spesso i panni di prete sì penso a Ficarre Picone per l'ultima eh l'ora legale bravissimo il cuore nel pozzo Don Bruno eh lì era un contesto completamente diverso erano le foibe perché per la prima volta in Italia eh ha avuto un grandissimo successo il cuore nel pozzo ha raccontato ha fatto capire ha descritto cosa fossero le foibe che non lo sapevano era una parola così vuota anche nei nei nelle enciclopedie nei vocabolari piccole foibe niente cavità carsica privandoli di una informazione molto importante e quello è stato un momento e lei ci ha aiutato a fare memoria di fatti che altrimenti come dice lei sarebbero relegati a quattro righe sull'enciclopedia o sulle voci di Wikipedia ah sai è un questo è il mestiere più bello del mondo come diceva Marcello Mastroianni eh e ti pagano pure perché è sempre carnevale sei sempre in panni diversi giochi vivi ed è così sono una persona fortunata per la famiglia per dove sono nato per il lavoro che ho incontrato per chi me lo ha fatto amare per chi me lo fa amare ancora ed essere sereni e tranquilli sa Leo io l'ascolto e capisco che lei è anche uno che non ha cancellato la gratitudine di quello della memoria di quello che ha fatto di quello che ha incontrato di quelli che ha incontrato il problema oggi è che noi ci dimentichiamo della nostra storia o si prova a farcela dimenticare in maniera tale poi da avere delle proposte che non sempre sono forse all'altezza dei nostri sogni o delle nostre competenze sulla parola memoria io la voglio stuzzicare provate a tapparvi le orecchie a questa clip che abbiamo preparato e provate a fissare solo gli sguardi spesso persi nel vuoto del vuoto di Leo Gullotta io questo film l'ho visto due volte e vi assicuro che è un'esperienza che va fatta guardate prima di cosa parliamo e poi dopo tornate qui non vi muovete andiamo pronto scusi chi è lei papà io esco non fare danni ah ci sta il caffè in cucina se vuoi sbrigati che poi si cena anzi a quest'ora non dovresti berlo che già dormi poco perché non riprendi a suonare? perché? te lo devo spiegare? oh la musica puoi aspettare amore tanto non vedo l'ora di conoscerla chissà come sarà come sarà? sarà Michela ciao Michela ciao ho scritto un pizzino a Gullotta mentre stavamo a Leo mentre stavamo guardando l'ho scritto l'ho amata io questo film l'ho amato e ho amato lei che è riuscito ad entrare nei panni di un direttore d'orchestra Mario che si accorge che qualcosa sta cambiando nella sua vita e sta imboccando il tunnel dell'Alzheimer si intrecciano altri fili d'erba per usare la sua biografia che è il ricordo di una moglie amatissima ormai scomparsa e di una figlia ribelle che finirà per prendersi cura di questo padre in una maniera straordinaria e questa è una storia molto dura molto particolare quel posto nel tempo è un personaggio dove chi lo ha visto chi lo va a vedere chi si trova a guardare questa storia che il fil rouge della realtà è la malattia dell'Alzheimer ma attorno ci sono dei temi sociali molto importanti ovvero sia per esempio lo scontro purtroppo è un tema che in questa nostra società si dibatte lo scontro tra genitori e figli le cose non risolte e questo film tratta anche questo ma soprattutto tratta di un uomo una persona che vedendo che comincia a vedere qualcosa nel proprio corpo non va ecco comincia ad avere paura si informa diciamo da medici scopre che lentamente comincia ad arrivare la malattia dell'Alzheimer una delle malattie è ancora sotto la fase della ricerca ma è devastante è devastante nella realtà delle persone perché lentamente queste persone diventano dei sacchi vuoti dove c'è un occhio che brilla ma vuoto e questo pensiero che arriva e non solo nella storia finzione del film nella realtà il perdere la paura di perdere la vita la memoria le proprie cose di perdere il ricordo della vita che è stato queste persone naturalmente prima del film abbiamo avuto con il regista Giuseppe Nuzzo incontro con dei medici diciamo specifici per sapere una serie di cose che accadono nella malattia che sono state diciamo riprodotte nel personaggio di questo direttore d'orchestra e lentamente si spegne e c'è questo scontro anche con la figlia con il ricordo della moglie che non c'è più con le radici però Leo sa qual è la beffa chiedo scusa c'è anche una città che vedete è ambientata a Napoli una città completamente dove è vuota non c'è nessuno ma questo segna anche la solitudine sociale quindi sono tante tante riflessioni vedendo e il pubblico insomma ho avuto il piacere di vedere sia a Napoli che a Roma e il pubblico alla fine del film rimane devastato ma è un film attenzione che io ci tengo a dirlo è un film comunque che regala speranza io questo lo voglio dire perché le stavo dicendo Leo che l'Alzheimer è una beffa perché poi riaccende ricordi sopiti Mario il direttore dell'orchestra si ricorda di quando faceva il bagno alla bambina Michela perché la malattia va avanti e indietro il malato di Alzheimer in generale nella sua mente rimane soltanto i ricordi della sua adolescenza basta una canzone e c'è tutta una spiegazione medica l'importanza della musica poi lui come direttore d'orchestra insomma perdere e se ne accorge è il racconto di questa perdita inizialmente cosciente e poi abbandonato lo scontro con la figlia che forse da piccolina ogni tanto quando poteva andare a casa giocava bagnetto, colazione, mangiare e purtroppo poi quest'uomo che diventa come tutti i malati di Alzheimer lì vuoto con lo sguardo perso ancora pieno di vita perché sono vuoti ma pieni di vita sarà lei la figlia diciamo nonostante lo scontro a legarsi sempre di più al padre a curarlo e lei rispetto a quel bagnetto che faceva lui da piccolino abbiamo la foto se me la mettete e invece adesso è lei che lo cura volevo dire una cosa molto importante è anche una voglia per chi va a vedere il film è un posto nel tempo, tutti quanti noi abbiamo un posto nel tempo come memoria è anche uno stimolo a conoscere di più a sapere di più verso questa malattia anche se non abbiamo problemi perché la conoscenza la curiosità nel sapere questo o quello è molto importante Leo abbiamo scelto questa immagine io sono stata io a chiederla perché per me questa è una pietà solo che a una madre si sostituisce una figlia esattamente, esattamente su questa io le chiedo una cortesia oltre a ringraziarla per aver speso la sua domenica con noi noi le abbiamo chiesto sono molto contento io la ringrazio tantissimo al di là del piacere che diciamo si chiama comunicazione per motivi di lavoro non sono qua soltanto per questo è il piacere anche di parlare di questo importantissimo argomento ad invitare a guardare, a vedere il cinema frequentatelo perché è bellissimo stare in una sala non a casa che si è distratti mentre si guarda il cinema, una sala cinematografica è bellissimo ti siedi, si buia la sala e questo schermo che sta di fronte a te enorme comincia la storia, qualsiasi storia e potete ridere, sognare, capire, approfondire incavolarti anche ma tu sei in quella poltrona e lentamente questo schermo con la storia che passa ti si mette addosso come una coperta ascoltatemi per un attimo lo faranno anzi dopo finalmente domenica ma dopo quando è finito si può andare a cinema anche all'ultimo spettacolo stasera non fa niente che domenica e domani ci dobbiamo svegliare presto Leo, quella immagine ci riporta a mani che sanno curare a sguardi d'amore e noi le abbiamo chiesto questo è un regalo oggi ne abbiamo molto bisogno di sguardi d'amore noi dopo di lei avremo una storia proprio di queste mani che curano le abbiamo dato un piccolo brano tratto da un libro che tra l'altro è un libro del quale parleremo tra poco lo voglio leggere? esatto ma capiranno gli amici ma me lo fa questo regalo che non ho chiesto e ho detto proviamoci sono molto onorato sentite è un libro compratelo è un libro molto importante si chiama come appesi ad un filo i guerrieri della tinna dice che cos'è la tinna la terapia intensiva neonatale vuol dire terapia intensiva neonatale ve lo leggo i genitori dei prematuri sono guerrieri che combattono ogni giorno per i loro figli tra l'impotenza del non poter fare qualcosa e l'incertezza del domani vita e morte si sfiorano continuamente come il desiderio di tornare a casa si incontra con lo sconforto del non ce la faremo entrare nella terapia intensiva neonatale sembra proprio come quando si entra in una galleria quasi oscura eppure familiare che sembra non finisca mai sai che ci può essere la luce della fine ma ancora non arriva cammini per chilometri e chilometri ma ancora non sei dentro e non vegli la fine e poi quasi a non sperarci più ecco il sole questo è un brano un piccolo brano grazie grazie voglio dire agli amici che ci stanno seguendo compratelo questo libro vi fate una passeggiata uscite di casa entrare in una libreria il libro si chiama come appesi ad un filo i guerrieri della terapia intensiva neonatale Leo Gullotta il sole l'ha portato lei oggi pomeriggio finalmente domenica e il sole è sempre grazie di essere stato con noi buon pomeriggio e buona vita buona vita a tutti non ve ne andate c'è la pubblicità noi ci sbaciuchiamo Leo Gullotta per voi e poi restate con noi grazie grazie a voi grazie ci sono delle vite fragilissime delle vite appese a un filo che solo mani e cuori che sanno curare ed amare possono salvare sono le vite dei bambini prematuri oggi vi racconteremo una storia anticipata anche da Leo Gullotta che vi farà venire i brividi innanzitutto grazie grazie a Cascavilla infermiera della TIN terapia intensiva neonatale impariamo anche questo acronimo del San Camilo di Roma all'ospedale romano ovviamente grazie a questi bambini tu li hai definiti piccoli guerrieri di che cosa anzi di chi stiamo parlando? stiamo parlando di bambini che possono pesare fino a quattro etti a volte quindi consideriamo un pacco di pasta o sono grandi come una penna che però hanno la forza di un leone riescono proprio a prendersi la vita se la proprio prendono con tutta la forza che possono avere grazie a un'infermiera che da vent'anni lavora con queste vite estreme in un certo senso come si fa? tu sei anche una mamma lo hai scelto deliberatamente che cos'è quei piccoli esseri veramente ai limiti della sopravvivenza che cosa rappresentano per un'infermiera? allora io casualmente ho iniziato a lavorare in teen però probabilmente è un disegno più grande perché insomma poi la mia vita si è evoluta molto a livello professionale è difficile è difficile a volte porti il lavoro a casa il mio figlio conosce tutti i miei bambini quindi sa che magari oggi abbiamo dovuto rianimare Benedetta oppure Ettore o Francesco conosce tutto quindi è difficile però loro poi ti danno una grande forza perché poi li vedi stare bene il giorno dopo quindi farcela nonostante il giorno prima abbiamo fatto una rianimazione molto intensa quindi diciamo sono dei piccoli miracoli quindi io sono fortunata perché vivo i miracoli quotidianamente per dare un volto a questi miracoli noi facciamo una incursione in una piazza affollatissima è piazza San Pietro è il 7 settembre del 2022 Papa Francesco ha una carezza per ciascuno di queste meravigliose creature sono un po' diventate grandi guardateli insieme a noi Maria ha sperimentato la tenerezza di Dio come figlia piena di grazia per poi donare questa tenerezza come madre attraverso l'unione e la missione del figlio di Gesù per questo oggi desidero esprimere la mia vicinanza a tutte le madri in modo speciale alle madri che hanno figli sofferenti la Madonna consoli tutte le madri e tutte le madri afflitte per la sofferenza dei figli grazie a cosa spinge un'infermiera di una struttura pubblica tra l'altro a raggruppare mamme e figli famiglie intere che hanno vissuto il disagio di una terapia intensiva neonatale per anni e portarli dal Papa che senso ha avuto questa visita per voi? come ti dicevo prima nel nostro reparto accadono miracoli e queste famiglie vivono delle situazioni al limite nessuno può comprendere bisogna toccarle la team bisogna entrare in team per comprenderla spesso per loro è anche difficile raccontarla fuori quindi hanno vissuto una situazione così intensa che avevano proprio l'esigenza di donare questo miracolo quindi un bel giorno ho pensato perché non portarle da Papa Francesco e quindi casualmente sono riuscita ad organizzare tutto non so nemmeno come però io penso che la mano di Dio opera silenziosa quindi non so come ho fatto perché ho contattato eravamo 150 e hanno risposto tutti e quindi è stata una grande emozione per tutti e i messaggi di ringraziamenti sono stati meravigliosi insomma grazie a Dio c'è tra quei fili tra quegli aghi io ieri leggevo il più grande quanto quello dell'insulina perché questi bambini hanno le vene così trasparenti e sottile che non è possibile pensare ad altro o invece quello è un avamposto di un Dio distratto che si è dimenticato di loro no non si è dimenticato di loro io penso che tutto è un cerchio che poi alla fine si chiude c'è un motivo se questi bimbi sono nati lì in quel momento e nelle storie proprio questo viene e non è un caso niente è un caso nella vita è un disegno più grande come ti accorgi che davvero c'è Dio lì dentro facci capire che cos'è questo miracolo a cui tu facevi cenno come ce lo dobbiamo immaginare non lo so perché io lo vivo ed è difficile da esprimere però penso a spesso le nostre mamme che sono lì hanno dovuto veramente fare tanto per avere questo figlio spesso da noi vengono le gravidanze preziose che sono quelle frutto magari di un'inseminazione per motivi molto molto particolari per patologie materne insomma e quindi questo figlio è veramente tanto tanto desiderato e e quindi c'è c'è dietro così tanto che e in effetti un dietro queste storie c'è qualcosa di più grande cioè per quella mamma questo figlio rappresenta veramente tanto tanto di più non è solo un figlio è proprio una parte di vita una storia molto più complessa voi sapete ancora stupirvi di quello che succede dentro una terapia intensiva o avete neonatale o avete visto già tutto non abbiamo visto tutto ogni giorno c'è una cosa nuova ogni giorno c'è un progresso nuovo c'è qualcuno che ce la fa in modo diverso ogni bambino è unico adesso ci sono due piccoletti di 27 settimane molto piccoli io il papà di questo bimbo è penso sia musulmano loro sono indiani e prega prega tantissimo quando viene come io gli dico devi pregare perché lui dice quando esce dico ma piccola pesa sei etti ci vuole tempo dico tu intanto prega lui quando viene a trovare la piccolina mi fa vedere il video che ha pregato e continua a pregare lì quindi insomma alla fine ognuno a modo suo fa la sua preghiera grazie ad una donna di scienza ad una persona che è abituata ad utilizzare protocolli chiari che insomma affida anche la propria la propria maestria alla scienza che lezioni arrivano da queste vite così straordinarie così guerriere sono tante di apprezzare tutto quello che abbiamo tutto allora ti racconto una cosetta mio figlio a tre anni ha portato gli occhiali quindi siamo andati a fare la visita oculistica da una dottoressa che vede i nostri bambini io dovevo fare il pomeriggio e ci sono rimasta così male che ho pianto ho chiamato al lavoro e ho detto no io oggi non ce la faccio a venire perché mio figlio dovrà portare gli occhiali nel mentre dicevo questo ho fatto un bel respiro ma che cosa sto facendo io non riesco nemmeno a diciamo metabolizzare un paio di occhiali e queste mamme poi invece fanno molto di più e quindi poi insomma mi sono ripresa dallo shock hai spiegato benissimo quello che che scatta poi nel meccanismo che scatta dentro alcuni noi la scienza da sola non li guarisce questi bambini non li riesce a curare tu davvero ti rendi conto che c'è altro penso anche che cioè che quando noi scegliamo di intraprendere una terapia o qualcosa di non sbagliare ecco di fare la terapia giusta anche lì anche quello è un miracolo non è solo la sopravvivenza ma anche riuscire a capire il problema perché non è facile quando un bambino sta male di quella portata non sai se sta male per una questione polmonare per una questione intestinale perché sono tante le motivazioni i prematuri devono imparare prima di tutto a respirare loro non sanno respirare loro iniziano ad alimentarsi con un ml un cc una goccia una goccia per tre in 24 ore o a passi alterni quindi insomma è tutto difficile chi è fuori non riesce a comprendere quando quello che per noi è naturale che per gli altri bambini è naturale per loro non lo è affatto grazie le storie che tu raccogli che sono bellissime in questo libro di cui ci ha letto un brano generosamente lo gulotta lo ripeto perché si fosse messo in ascolto soltanto adesso sono storie raccontate proprio dai genitori stessi e sono storie anche di speranze deluse perché non tutti i bimbi riescono a farcela e non tutti i bimbi tornano a splendere o iniziano a splendere come quelli che abbiamo visto accolti da Papa Francesco ti devo fare una domanda brutta ma la devo fare per onore e amore di verità quando è che tenere quei bambini diventa un accanimento arriva il momento in cui vi rendete conto che comunque quella vita va come vuole lei mi sono spiegata è accaduto tante volte accade accade spesso mi vengono in mente alcuni bimbi che ho assistito quest'estate ho tenuto una mamma ho tenuto la mano a una mamma già dalla sala parto che ha avuto questa bimba era il suo ultimo tentativo era la sua ultima possibilità di essere mamma e questa bimba sembrava farcele era piccolina era 24 settimane quindi diciamo quel un giorno prima non sarebbe stata rianimata diciamo quindi in quel momento però noi ci siamo impegnati tanto 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 ma dopo pochissimo la situazione è precipitata dopo qualche giorno lì nonostante la voglia di di provare a farcela chiaramente abbiamo abbiamo niente le cose sono andate così come dovevano andare la resa la resa purtroppo sì c'è ed è triste ed è triste è triste ma non manca nei racconti di questi genitori la riconoscenza per una squadra meravigliosa che è la vostra squadra della terapia intensiva neonatale come appesi un filo abbiamo detto sono tante storie guardate non tutte sono agli etofine come è giusto che sia perché la vita è questa però quel senso di speranza e di amore rimane non incattivisce non fa chiudere questa vita noi abbiamo una sorpresa per te siamo andati a pescare tra i tanti una coppia di genitori guardate che stare in quella terapia intensiva non è un problema solo del papà e della mamma e della creatura che sta dentro l'incubatrice ma anche di tutta la famiglia di altri figli se ce ne sono guardate qui cosa è uscito fuori non sai neanche chi sono te lo diciamo dopo guardate ciao grazie cogliamo questa occasione speciale per dirti grazie un grazie di cuore va a te e a tutto il reparto della terapia intensiva neonatale del San Camillo un reparto che non conoscevamo affatto fino a quando non è andata a Benedetta perché il latin è un mondo parallelo che si conosce solo se si vive la prematurità io mi ricordo incredibile di quel periodo in cui siamo entrati in quel reparto che come ha detto Nese proprio non avevamo idea neanche dell'esistenza siamo entrati che eravamo scioccati impauriti abbiamo vissuto un tempo veramente di fragilità di precarità dove abbiamo visto e toccato con mano che la vita era appesa a un filo però ci siamo sentiti sempre uniti come coppia e sostenuti e questo lo dobbiamo soltanto al fatto che Dio è stato con noi e avrete abbiamo avuto la dimostrazione che Dio esiste abbiamo incontrato degli angeli in quel reparto anche che ci hanno accolto ci hanno aiutato e hanno avuto un'umanità incredibile per noi Alessandro tu che periodo in quel periodo hai dei ricordi qualcosa io mi guardo sbiadito ma durante la giornata mondiale per il bambino prematuro vedevo i medici e le infermiere che avevano un amore genitoriale riguardo questi bambini e tu Anna? io voglio dire anche qualcosa che è importante che i dottori e le infermiere sono molto brave questo per chi c'è Dio che gli aiuta è vero e tu bene? ciao ti vogliamo bene ciao ciao siamo rimasti è arrivato ieri sera abbiamo fatto una corsa per riuscire è pulito non abbiamo toccato nulla papà Gabriele mamma Agnese Benedetta che poi avete visto anche nel filmato con papà Francesco e poi Alessandro e Anna Lisa gli altri fratellini la storia di Benedetta guardate questo è un messaggio che io vorrei dare a chi ci ascolta che dall'altra parte pensa che non ci sia alcuna possibilità la storia di Benedetta che vi andrete a leggere in come è appesi un filo questo libro che tra l'altro va per raccogliere fondi per tenere in piedi tante attività è una storia a limiti dell'impossibile però senza voler terrorizzare Benedetta ma io so che sa le sa tu che è un miracolo cos'è stata quella vittoria? Benedetta ci ha fatto veramente lavorare tanto tante volte io l'ho l'ho rianimata proprio l'ho ventilata insieme ai medici insomma nel frattempo che chiamavamo un medico un medico è stata dura è stata dura cinque mesi da voi è stata cinque mesi cinque mesi cinque mesi e ormai i genitori erano diventati di casa e Annalisa veniva gli mettevamo ogni tanto il camice per vedere la sorellina perché è stata poi in una stanza in cui non era visibile agli esterni quindi insomma era difficile mani che curano abbiamo detto questo è l'amore l'amore con la maiuscola che non finisce di stupirci non te ne andare non ve riandate neanche voi perché poi faremo ancora altri viaggi c'è un minuto di pubblicità un paio di minuti tempo di aggiustarvi la copertina sul divano e restate con noi Bentornati in studio ecco è bellissima questa immagine che accompagna Grazia Cascavilla da vent'anni nelle terapie intensive neonatali quella del San Camillo con il marito Giuseppe e con il piccolo Francesco che vorrei chiamare in causa indirettamente so che sta dall'altra parte dello studio ci sta guardando perché abbiamo raccontato di vita che solo l'amore può salvare perché sono le vite di 400, 500, 600 grammi che rimangono mesi a volte nelle terapie intensive con le cure di questi uomini e di queste donne straordinari Francesco tu da quando era piccolo te lo porti alla grande festa dei prematuri che fate che senso ha portare un bambino pieno di vita sano bello come tuo figlio a confrontarsi con delle cose da cui nessuno di noi vorrebbe con cui nessuno vorrebbe avere a che fare io voglio insegnare a mio figlio l'inclusione cioè bisogna bisogna accettare tutti così come sono non deve avere paura della diversità e della disabilità quindi c'è un bimbo a cui spesso io gli raccontavo che è il piccolo Travis che purtroppo è affetto da una sindrome genetica rara ed è diciamo sulla carrozzella e ha delle grosse problematiche ha una mamma fantastica meravigliosa ecco io spesso gli porto il suo esempio di questo bambino che ride che è forte che nuota e io lo porto alla festa del prematuro proprio per conoscere quanto è bello il mio lavoro quante cose belle si possono fare quanto una mamma può essere felice nonostante suo figlio non possa camminare bellissimo bellissimo e come Travis ce ne sono tanti di queste situazioni magari c'è un bimbo che non riesce a parlare ed è difficile proprio anche dire mamma quindi insegno a mio figlio ad apprezzare ogni cosa grazie c'è mai stata qualche mamma qualche papà che abbiano detto visto le conseguenze di quella rianimazione le conseguenze di quella permanenza perché lo avete fatto era meglio che non ci fosse dimmi la verità no magari è stato un momento di cedimento ma poi io quando li vedo alla festa del prematuro sono tutti felici nonostante tutto c'è una data precisa per questa festa? il 17 novembre e allora il 17 novembre di quest'anno è il caso proprio di farlo un pensierino una preghiera anche laica per chi non crede per poter stare accanto a questi piccoli guerrieri a queste vite appese a un filo come avete visto in copertina i proventi di questo libro che sono firme di papà e di mamme che ce l'hanno fatto e vanno tutti per sostenere questo reparto grazie a Cascavilla è stato un onore e un piacere grazie ti saluto e ti ringrazio con tutto il cuore possibile grazie grazie infinita a voi che mi avete dato questa possibilità e allora lascio il mio libro a grazie Cascavilla mi sposto perché vi possiamo portare solo in un posto ancora dove l'umano l'umano tocca il cielo se ne andiamo ad Assisi con Fra Massimo Travascio che è il custode della Porzion con la Santa Mere degli Angeli perché Fra Massimo buon pomeriggio e grazie di averci dedicato questo frammento della tua domenica ci prepariamo alla festa di San Francesco che sapore ha quest'anno con tante novità non ultima quella dell'olio della lampada sì allora è sempre una grande gioia ci stiamo preparando a questo momento come sempre tanto atteso quest'anno sì sicuramente ci sono delle particolarità rispetto agli altri anni perché non sarà una singola regione d'Italia a portare l'olio che arde sulla lampada di San Francesco ma saranno tutti gli enti e le associazioni che hanno contribuito ad affrontare il problema della pandemia ecco speriamo di uscirne presto di lasciarcelo presto alle spalle però ecco abbiamo voluto fare proprio questo invito perché dopo due anni di covid ecco ci sembrava bello che poter coinvolgere tutti appunto gli enti e le associazioni che hanno contribuito per questo tempo così difficile e il fatto che comunque tutte le regioni siano ovviamente ben rappresentanti da colui che è il presidente della nostra Repubblica quindi il presidente Mattarella che accenderà l'olio in rappresentanza di tutti i comuni italiani è per noi una grande gioia lo senti Fra Massimo il 24 settembre Papa Francesco ad Assisi con tutto quello che ha comportato e tutto quello che voi avete vissuto al di là di quello che è stato possibile poi vedere e raccontare anche attraverso TV 2000 che cosa lascia quella visita e che cosa apporta proprio a questa festa di San Francesco del nostro patrono Certo Francesco porta sempre novità sicuramente il suo messaggio è sempre estremamente attuale e si è visto anche in questa visita del Papa dove il Papa ha voluto lasciare ancora una volta un messaggio di grande speranza ma soprattutto anche una grande carica verso per i giovani ecco perché i giovani siano protagonisti sempre di più del loro futuro che prendano in mano il loro futuro qui San Francesco nel luogo del transito ha detto alla fine della sua vita queste parole io ho fatto la mia parte Cristo vi insegni la vostra ecco dobbiamo prendere in mano il nostro futuro abbiamo tutti una grande responsabilità e possiamo prendere in mano il nostro futuro vivendo in pieno il nostro presente Fra Massimo grazie di cuore sarà la vostra festa ma è la nostra festa questo non dobbiamo mai dimenticarlo e anche TV 2000 proverà come sempre a fare il proprio dovere quindi saranno tutto seguito in diretta rigorosamente come siamo abituati a fare grazie davvero lasciamo a Sisi ce ne andiamo a Lourdes che è un altro posto dove il cielo si può toccare con mano noi se volete se avete gradito torniamo domenica prossima grazie a tutti voi grazie a tutti grazie a tutti Grazie.